perché conviene pubblicare regolarmente video su youtube nel momento in cui è un business online un'attività in cui vuoi in qualche modo guadagnare visibilità online conquistare una certa fetta di pubblico che in qualche modo inizia a seguirti online e questa è una domanda che a volte mi arriva anche ieri ne parlavo con una persona che conoscevo mi chiedeva ma marco ma perché stai facendo questa sfida 365 in cui stai pubblicando un video al giorno per 365 giorni su youtube deve essere un grande lavoro quindi quali nell'ottica di ormai ci stiamo avvicinando verso la fine della sfida 365 questo è il video numero 338 e quindi quali sono un po i vantaggi che ho raggiunto in questo periodo come è andata come sta andando la sfida 365 dunque un primo vantaggio un primo obiettivo che certamente mi sento di stare raggiungendo con questa sfida 365 è la relazione con il pubblico nel momento in cui inizi a pubblicare con una certa regolarità contenuti soprattutto se lo fai ogni giorno inizia ad avere un certo numero di persone che ti seguono tutti voi mi state seguendo vi ringrazio per stare continuando a seguire con questa assiduità i video che sto pubblicando come parte della sfida 365 si crea una relazione con il pubblico e avere un pubblico è una cosa importantissima nel momento in cui vuoi avere una presenza online nel momento in cui vuoi fare business online questo primo elemento un secondo elemento estremamente valido del pubblicare video su youtube è che questi video in qualche modo vengono posizionati sui motori di ricerca per cui non sono semplicemente un qualcosa che viene pubblicato e chi c'era lì in quel momento li vede e poi restano una cosa dimenticata nel passato no tutti questi video che stanno venendo pubblicati restano lì vengono indicizzati dai motori di ricerca sia da youtube sia da google e pian piano nel tempo iniziano a raccogliere traffico ognuno di questi video che sto pubblicando diventano delle piccole sorgenti di traffico che in qualche modo poi possono convogliare traffico verso i miei siti web verso le mie landing page e la stessa cosa puoi fare tu nel momento in cui inizi a pubblicare video regolarmente non non devi necessariamente farlo una volta al giorno puoi benissimo farlo una volta alla settimana una volta ogni due settimane ma ogni video che pubblichi su youtube diventa una sorgente di traffico che dura indefinitamente nel tempo quindi più ne hai e più traffico finisci per generare è un altro motivo per cui sono davvero soddisfatto di stare facendo di aver fatto questa sfida 365 è il fatto di lasciare qualcosa è una cosa di cui avevo parlato nel primo video di questa di questa sfida 365 però in questa fase della mia carriera in cui sono estremamente produttivo sto sto producendo contenuti sto imparando un sacco di cose sto avendo una grande attività una fase di grande espansione di grande ricchezza per la mia attività e non voglio illudermi non voglio dire che sarà sempre così però in questi anni sono veramente in una fase estremamente creativa vorrei sfruttare questa questi anni creativi che ho come parte della mia carriera per lasciare una eredità per lasciare un ricordo dopo che magari non sarò più in questa situazione oppure dopo anche che magari non ci sarò più vorrei lasciare qualcosa vorrei lasciare un ricordo di me di questa conoscenza che ho acquisito di queste cose che che sto facendo che ritengo che davvero siano di possano essere di valore per altre persone quindi voglio tramandare le cose che ho imparato e studiandole e sperimentandole sulla mia pelle sulla mia esperienza quindi relazione col pubblico è una cosa che ti genera pubblicare video su youtube generare traffico per il tuo sito web e poi eredità lasciare qualcosa a chi viene dopo io sono marco scabia se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog vai su www.marcoscabia.com poi lasciami un commento lasciami una reazione condividi questo post e ricorda sempre avanti senza mai fermarsi Grazie a tutti